Se ti dicessi, appartamento di recente costruzione al secondo piano servito da ascensore, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, due bagni, garage al piano interrato, questo bellissimo balcone dove mi trovo ora, cosa stai aspettando? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in via Medaglie d'Oro, a pochi metri dal parco Bucci e qui si trova questo appartamento al secondo piano servito da ascensore con ingresso sul soggiorno con angolo cottura, il tutto si affaccia su un bellissimo balcone e zona notte con due camere da letto e due bagni. Nel reparto notte troviamo il bagno principale finestrato con box doggio, il secondo bagno con donna lavanderia, camera singola e camera matrimoniale. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!